Huawei Watch è lo smartwatch con Android Wear più bello e più completo sul mercato perché è veramente dotato di ogni cosa c'è un display circolare spettacolare, un cinturino in pelle di ottima fattura ha il cardiofrequenzimetro, ha lo speaker con cui effettuare le telefonate grazie all'ultimo aggiornamento di Android Wear purtroppo però ha un difetto, cioè c'è Android Wear a bordo e questo è veramente un problema perché la piattaforma non è poi maturata così tanto nel corso degli ultimi mesi e degli ultimi anni c'è da dire che però risulta essere uno smartwatch davvero interessante perché appunto è molto legato all'ecosistema di Android ed è anche il più bello in assoluto sul mercato battendo secondo me di gran lunga i prodotti della concorrenza come quelli di Asus oppure quelli di LG è un dispositivo che però vi viene a costare un po' tanto ancora oltre i 300 euro magari se lo trovate con una botta di fortuna a 250 euro potrebbe essere davvero un must buy è un bellissimo oggetto però aspettiamo un aggiornamento da parte di Google che permetta ad Android Wear di essere davvero utile nel corso della giornata sul nostro canale trovate anche la recensione completa di questo prodotto in modo tale da poter scoprire tutti i suoi dettagli un saluto al prossimo video per EatBall.com Andrea Ricci